Buon lunedì dell'Angelo e bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. A Pasquetta si assisterà ad un miglioramento del tempo su tutta l'Italia, con più sole, ma con raffiche di tramontana sui settori adriatici. Qualche nube potrà insistere nelle zone interne dell'Appenino centro-meridionale, con possibilità di deboli e isolati rovesci nel pomeriggio. Ritornerà il bel tempo ovunque, con temperature più fresche sulle regioni adriatiche, più mite sul lato tirrenico. Ma andiamo a vedere in dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 17 aprile. Scampagnata di Pasquetta, per fortuna salva, infatti solo al primo mattino, i cieli si presenteranno parzialmente nuvolosi sui settori interni, con rischio di qualche sporadico rovescio, ma la situazione sarà in rapido miglioramento con rasserenamenti sempre più ampi nel corso della mattinata. Pomeriggio sera con qualche nube innocua, ma senza rischio di precipitazioni. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori massimi e minimi. Attenzione alla ventilazione moderata dai quadranti settentrionali, soprattutto lungo le coste pugliesi. Mari mossi, ma con moto ondoso in attenuazione dalla serata. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consigliato appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questo scatto che ritrae i due faraglioni di Torre dell'Orso in provincia di Lecce, denominati le due sorelle, dagli abitanti del porto secondo un'antica leggenda. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e all'email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda dalla prossima puntata. Buona Pasquetta a tutti e grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento.